Eccoci quindi qui ragazzi, allora, benvenuti in un nuovo video di mercato, riparliamo ancora di Patrick Schick e lo riaccostiamo ancora una volta al Milan. Visto ormai l'arrivo ufficiale di Giampaolo sulla panchina rossonera, le voci di un possibile approdo dell'attaccante cieco alla corte di chi lo ha effettivamente valorizzato nei suoi unici sei mesi effettivamente buoni di tutta la sua carriera, si sono fatte ancora più insistenti, anche se in questo momento non si parla più di contropartita Andre Silva ma di un altro nome che a quanto pare sta dividendo la piazza. Sto parlando di Patrick Cutrone, secondo la Gazzetta dello Sport infatti, per la prima volta cito la fonte ufficiale dove ho preso la notizia, sembra che il Milan sia disposto per accontentare il suo nuovo allenatore ad arrivare a 15 milioni più il cartellino di Cutrone per prelevare Patrick Schick, a titolo ovviamente definitivo. Quindi cambierebbe anche la modalità rispetto al possibile affare di prestiti con Andre Silva e quindi Schick saluterebbe definitivamente la Roma dopo essere diventato l'acquisto più neroso di tutta la nostra storia. Un affare che ha diviso la piazza per due motivi. Prima di tutto perché comunque c'è chi ancora crede in Schick e crede che con questo nuovo allenatore possa effettivamente dire la sua e ritrovarsi. Dall'altra parte invece c'è chi lo vuole dar via perché ormai dopo due anni non si possono più dare altre possibilità. E comunque il giocatore nel senso in questi due anni è vero, è stato infortunato per molte partite, però anche quando ha giocato, pur essendo stato emesso in tutte le posizioni possibili dell'attacco, non è mai riuscito a farsi valere. Forse per un dualismo con Geko che non ha mai voluto concorrenti sul suo ruolo, sicuramente anche per questo. Vuoi per un atteggiamento insufficiente del giocatore che non è mai riuscito ad imporsi sull'attacco della Roma. Fatto sta che come centravanti, come esterno, come seconda punta e come portiere, ovviamente scherzo, non è mai riuscito a dare quella sensazione di essere un grande giocatore. Non dico un giocatore da 80 milioni, ma che quantomeno rispetti parte dell'investimento che la Roma ha fatto su di lui. Lo stesso Cutrone però, per diversi motivi, sta dividendo la piazza. Tra chi sarebbe contentissimo di vederlo con la maia della Roma perché gli piace vedere il suo atteggiamento da combattente e chi al contrario lo considera un destro due, un giocatore che oltre l'impegno non ha particolari mezzi tecnici. Quindi il suo arrivo non sarebbe particolarmente soddisfacente per quanto riguarda il nostro reparto offensivo. Allora, io sono d'accordo con entrambi in parte. Ho un'opinione tutta mia, diciamo, nel senso che considerando l'investimento che abbiamo fatto per Schick, darlo al Milan sarebbe comunque un rischio perché se effettivamente il giocatore riuscisse a rivitalizzarsi con Giampaolo, comunque tu hai buttato via un giocatore e hai buttato via tutti i soldi che hai speso per acquistarlo. Anche se sarebbe comunque una testimonianza del fatto che è un giocatore che non ha personalità. Perché se effettivamente riesce a giocare bene solo con un determinato allenatore, come ad esempio Gervigno, allora vuol dire che non ha le palle per poter essere appunto un valore aggiunto della nostra Roma. Quindi io comunque lo cederei, lo dico la verità, lo cederei, però ho sempre paura di rimpiangere un pochino la sua cessione perché da noi succede sempre così, quasi sempre così. Quando cediamo qualcuno di cui siamo contenti, della cessione ovviamente, poi diventa un fenomeno. Quasi sempre è successo così. D'altro canto però Cutrone mi piace e non mi piace. Nel senso che se l'offerta effettiva è veramente di 15 milioni più Cutrone, allora si potrebbe fare. Non sarebbe così vantaggiosa come in molti stanno sparando, perché tutti dicono dove si firma, dove si firma. È un affare che farebbe contenti tutti e due, ma non è così clamoroso in positivo per noi, considerando appunto quanto abbiamo speso per l'attaccante cieco. E Cutrone mi piace. È un giocatore che comunque si impegna, è un giocatore di grande grinta, è spirito di sacrificio, è un giocatore che comunque riesce a trovare spesso la via del gol. Il problema è che quest'ultimo anno si è un po' demoralizzato, perché con Iguain prima e con Piontek poi non è mai riuscito a trovare continuità. E per un giocatore così giovane trovare un minimo di continuità è fondamentale, perché comunque è il periodo di crescita in cui il giocatore riesce a capire bene come utilizzare i propri mezzi e migliorarli. E sicuramente quest'anno, non giocando praticamente mai, entrando ogni tanto dalla panchina, non è certo stata una cosa positiva per la sua crescita sotto tutti i punti di vista. Quindi comunque anche Cutrone sarebbe una sorta di scommessa. Ed effettivamente a livello tecnico non parliamo di un giocatore eccelso. Cioè comunque uno che si impegna, però non ha certo dei piedi educati per poter gestir palla o fare grandissime giocate. È ancora giovane, può ancora dimostrare tanto, però appunto metto sui aspetti positivi della sua carriera finora molto di più la grinta che le effettive qualità tecniche. Io sostanzialmente lo farei quest'affare, però comunque penso che sia un vantaggio per tutti e due, perché se è vero che Shiko comunque è difficile da recuperare, se lo recuperi può essere veramente un grande giocatore, quindi comunque andrebbe bene ad entrambi. Tutto dipenderà ovviamente dalla valorizzazione che potrebbe fare Fonseca dello stesso attacco antitaliano, perché se deve essere preso per fare come ha fatto quest'anno al Milan, e cioè giocare poche volte dalla panchina e non riuscire mai a trovare la continuità, allora potrebbe rivelarsi anche per noi, non dico un investimento a perdere, ma quasi. Quindi io se dovesse arrivare Cutrone mi auguro quantomeno che gli venga data maggiore continuità, soprattutto in Europa League, qualora speriamo ovviamente riuscissimo ad andare ai gironi. quelle potrebbero essere partite tranquille per poter farsi valere e per appunto trovare la continuità che magari con il Milan appunto non ha trovato. Detto questo ragazzi allora, fatemi sapere qua sotto nei commenti voi cosa ne pensate, noi ci vediamo presto per un altro video, vi ricordo ancora una volta di scrivermi qua sotto nei commenti se volete che io vi parli di qualche argomento che magari a voi interessa particolarmente. Un saluto e sempre comunque Forza Roma! Ciao ragazzi!